C'è una sottile linea rossa che lega Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint ad altre produzioni di casa Ubisoft. Sarà l'ambientazione, quell'isola misteriosa e la sua geografia capace di riportarci alla mente un qualche Far Cry. Sarà pure quella struttura carezzata dalla formula già vista e apprezzata di The Division e soprattutto del suo seguito diretto. Sarà quel che sarà. Ghost Recon Breakpoint è opulente nell'offerta, dando il meglio nella componente cooperativa senza però trascurare la storia principale o alcune dinamiche competitive. Ghost Recon Breakpoint, semplicemente, piacerà molto a chi deve piacere. Nonostante una sceneggiatura fatta e finita, ma anche una nutrita presenza di amici e nemici, non è sbagliato pensare che la vera protagonista di Breakpoint sia l'isola di Aura. Non solo mappa enorme al servizio delle varie modalità di gioco, ma anche un elemento cardine del soggetto buttato giù dai narratori di Ubisoft Paris. Una sorta di paradiso terrestre da qualche parte nell'oceano Pacifico, trasformata in perfetto connubio biologico e tecnologico dalla Skell Technology, perfini, sulla carta, assolutamente nobili. Ci sarebbero cascati tutti, ma non i lupi guidati dall'ex soldato Cole Walker, Ghost rinnegato, che con il suo esercito invade Aura per impossessarsi degli avanzati progetti su droni e sicurezza, di cui quel lembo di terra sperduto nell'oceano è custode. La mappa, semplicemente, è gigante. L'isola, popolata dagli ospiti di Skell, dai lupi di Walker e ovviamente dai Ghost sparsi sui server di tutto il mondo, non offre certo particolari attività secondarie. Nulla, tanto per intenderci, che non sia in qualche modo legato alla vita del soldato. Eppure, è allo stesso tempo ricca di punti di interesse, misteri, documenti e collezionabili. Persino scorci realmente meravigliosi dove magari preparare un bivacco per la notte ammirando il cielo, le stelle e gli astri. La scelta di ambientare le storie di Breakpoint in uno scenario non reale non coincide, tanto per dire, con l'ambizione pienamente soddisfatta di ricreare uno scenario realistico dove ogni cosa è al posto giusto. Il colpo d'occhio, almeno nella versione Xbox One X testata, è imponente per vastità, con una linea d'orizzonte praticamente senza limiti e capace quindi di mettere alla frusta anche la CPU più performante. Eppure, persino al netto di considerazioni varie su quello che si può e non si può fare, da un punto di vista tecnico in un mondo condiviso, con alcune texture magari poco performanti, l'impatto visivo è notevole, offrendo al giocatore una sorta di parco giochi non certo infinito, ma credibile e semplicemente bello da vedere. L'inizio del gioco, dopo una breve introduzione, coincide con il rocambolesco a prodo del nostro Ghost su Auroa. Nomad, a prescindere dall'aspetto scelto per l'occasione, ha un nome, ha una voce, una scelta importante a fini narrativi che non ci sentiamo di criticare un po' stupidi personaggi anonimi e poco empatici. Non che Nomad sia un gran chiacchierone, chiariamo. Superata la prima fase e quindi raggiunto il nascondiglio, vero e proprio hub, saranno sempre i comprimari a fare la parte del leone. A impersonare Walker, con un'interpretazione convincente e nelle sue corde, c'è la star John Bertal, da The Punisher a Breakpoint, è un attimo, con l'ex The Walking Dead chiamato a interpretare un personaggio cardine, pregno di grigi e proprio per questo particolarmente affascinante. Un villain decisamente colorato, le cui apparizioni segneranno inevitabilmente l'incedere della storia. Ad ogni modo, la campagna single player di Breakpoint è soddisfacente, non in senso assoluto, ma contestualizzato al momento storico e al genere di riferimento. Le fasi competitive e quelle invece destinate al PvP. In linea di massima, il nuovo Ghost Recon è un more, more, more rispetto al precedente episodio, dove il fulcro del gameplay è infuso nel PvE. Semplicemente il mission design è pensato per essere giocato in un certo modo, ovvero con altri tre amici che collaborano, si organizzano, magari si parlano pure. Affrontato così, il titolo cambia pelle, guadagnando ancora una volta il titolo di tactical shooter in terza persona. D'altro canto, il numero di attività dedicate alla cooperazione sono tante. Meno convincente, invece, il modo in cui le informazioni vengono riversate sul giocatore nelle prime ore di gioco. Sono semplicemente troppe e peraltro non sempre chiarissime. Ancora meno semplice è la navigazione tra i vari menu di gioco, con il movimento del cursore, deputato all'analogico, impreciso e impacciato. Gli elementi ruolistici che fungono da perno nel titolo Massive Entertainment vengono limitati in Breakpoint, nello sviluppo di quattro classi, lasciando un ruolo solo marginale all'equipaggiamento. Vero, invece, che in Breakpoint ci sia un maggior rilievo della componente shooting, con la visuale che passa in prima persona già in fase di mira, quasi a sottolineare l'importanza balistica dell'esperienza. Giusto precisare come il livello del personaggio e quindi dell'equipaggiamento acquisito non vada ad influenzare in alcun modo le prestazioni del nostro soldato. Discorso diverso, invece, per le classi e le specializzazioni, con le varie abilità che determinano le caratteristiche del giocatore. Le varie mappe dedicate al PvP, infine, sono ricavate dalla stessa mappa di gioco principale e vanno a scavare tra le varie, varie per davvero, ambientazioni offerte da Auroa. Da non sottovalutare, inoltre, l'importanza dei veicoli. Auto, jeep, moto e elicotteri. Se può muoversi, puoi guidarlo. Ghost Recon Breakpoint non è un titolo capace di stupire, ma è certamente quel tipo di gioco solido capace di intrattenere per ore e ore. La campagna, priva del doppiaggio in italiano ma ben tradotta, mette in scena una storia ben scritta, in linea con la firma di Tom Clancy, ma incapace di reggere da sola il peso dell'intera esperienza ludica. I meriti del gioco sono, semmai, da ricercare in altri lidi, ovvero nell'ampiezza della mappa, nella credibilità degli scenari, nella necessità di cooperare con un gruppo di amici. In attesa di valutare con pazienza quanto l'endgame e le missioni stagionali avranno effettivamente da offrire, Breakpoint sembrerebbe davvero essere un degno erede di Wildlands, più grasso e più grosso, imperfetto per sua stessa natura e comunque più bello da vedere. Una sorta di Luna Park per aspiranti ghost che farà felici i fan della serie.